Siamo con Beppe Tasca, autore del gol del 2-1 per la vittoria dell'associazione club contro la Virtus Cibeno. È stata una partita combattutissima, loro erano molto forti, noi alla fine un po' corti di fiato. Penso che il pareggio sarebbe stato molto giusto, però ho avuto un po' di fortuna a fare l'ultimo gol e speriamo di continuare così. Per questa stagione, secondo te, che obiettivi si possono raggiungere con questa squadra? Innanzitutto dobbiamo provare a giocare meglio, poi i risultati penso che verranno da soli. Comunque i play-off potrebbero essere un ottimo risultato. Grazie a tutti.